Ad Abbaia Flaminia, oltre ad ombrelloni e lettini, si possono noleggiare anche cucce per cani. È una spiaggia attrezzata per i nostri amici a quattro zampe e si trova a Pesaro. È utilissimo, anche perché è l'unico posto in tutta Pesaro dove si possa portare. Prima era solo una spiaggia libera, ora è libera ma attrezzata, l'inaugurazione e l'ufficialità nelle scorse ore. E quest'anno con qualche novità e poi nei prossimi anni sicuramente si andrà a strutturare una cosa un pochino più concreta. Si raggiunge percorrendo via le Parigi e all'arrivo si riceve un kit di benvenuto. Così si dà inizio ad una giornata al mare e in compagnia. Qui i cani possono fare sport con i loro padroni, giocare e vivere gli spazi in maniera libera. Di Wave metteremo a disposizione dell'attrezzatura sportiva sia per i clienti che per i clienti accompagnati dai cani. Quindi promuoveremo giornate di soup dog, kayak con i cani. Il tutto sempre sotto l'occhio attento degli educatori cinofili presenti. Ecco, l'educatrice cinofile è importantissimo per dare i consigli, per cercare di evitare che qualche cane si possa litigare. Fare delle attività insieme al proprio cane, quindi divertirsi. Ma anche come è successo, se succede qualcosa a un cane, poter intervenire proprio per fare un pet festide. Cioè fare un massaggio cardiaco, una respirazione a un cane. Ai padroni si chiede il massimo rispetto e attenzione. Un progetto, quello della spiaggia per gli amici a quattro zampe, che si propone anche di riqualificare l'area. Una zona del lungomare di Pesaro fin troppo trascurata, che tornerà a splendere grazie ai tanti cani che verranno.